Grazie Presidente, saluto e ringrazio i consiglieri e per motivi di brevità come anche i miei colleghi proverò a leggere perché i temi sono davvero tanti. Comincio con la delega relativa alle politiche sociali, politiche dell'immigrazione, socio-sanitario e poi continuerò invece con sanità, tutela animali e beni confiscati. Quindi provo a sintetizzare. La programmazione sociale degli ultimi anni si è collocata in una fase di forte crisi che noi ben tutti conosciamo, incidendo quindi pesantemente sulla programmazione delle politiche sociali a livello regionale e cittadino, per la forte riduzione delle risorse disponibili tra cui proprio quelle a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali. In questo contesto si è reso ancora più necessario avviare una profonda riflessione sul modello del welfare cittadino che pur tenendo conto dei vincoli economici esistenti ha guardato ai bisogni prioritari della città, ai mutamenti sociali e demografici che sono intervenuti nel corso del tempo, all'adeguatezza efficacia degli interventi realizzati in una prospettiva di cambiamento non più improntata ad una logica di esclusiva riduzione della spesa nel breve periodo, quanto piuttosto alla ricerca di efficientare ed ottimizzare il sistema delle risorse disponibili. Il primo passo è stato quello di lavorare per una significativa integrazione e sinergia con le altre politiche di settore e con le diverse fonti di finanziamento. Il processo di elaborazione del piano sociale di zona della città ha costituito e costituisce pertanto una proficua occasione per ripensare in maniera integrata e sistemica, ma anche in maniera collettiva e condivisa, il sistema di welfare cittadino, allo scopo di definire le priorità e gli obiettivi strategici e prioritari. In particolare l'elaborazione del piano di zona offre l'occasione di consolidare le scelte effettuate, di rinsaldare i percorsi di integrazione avviati e di sperimentare soluzioni gestionali innovative, adeguando la programmazione alle disposizioni normative e regolamentari adottate a livello sia ministeriale che regionale e anche comunitario. Il percorso di elaborazione del documento di programmazione delle politiche sociali cittadine si realizza mediante un processo ampio e significativo di concertazione territoriale con le altre istituzioni, quindi di partecipazione, che vede in primis il coinvolgimento delle municipalità. Aggiungo a questo tema delle municipalità che proprio di recente, proprio con gli assessori alle politiche sociali delle diverse municipalità, si è condivisa la necessità di creare anche degli appuntamenti quasi mensili, anzi mensili se non di più all'occorrenza, per condividere strada facendo anche, quindi di monitorare insieme tutti i cambiamenti anche dei singoli territori. Le municipalità come luoghi intermedi di rappresentanza democratica che consentono l'interconnessione diretta con i territori, pur in presenza di forti limiti all'autonomia del governo decentrato. Pur nella forte attenzione sempre dedicata alle specificità territoriali, ad ogni modo è necessario che la programmazione sociale mantenga un carattere di unitarietà ed organicità, al fine di evitare il rischio di frammentazione e disomogeneità nel sistema di offerta dei servizi. Negli ultimi anni l'investimento comunale per la spesa sociale si è mantenuta pressoché stabile, pur in presenza di una significativa riduzione dei trasferimenti complessivi, quindi statali e della contrazione economica globale. La programmazione delle risorse è stata oggetto di riqualificazione e sistematizzazione al fine di un efficientamento complessivo del sistema. Questa amministrazione è intenzionata a proseguire nella direzione intrapresa, potenziando e rafforzando politiche capaci di costruire sistemi di welfare efficaci ed efficienti, al contempo flessibili, in una risposta ai cambiamenti dei fenomeni sociali e dei nuovi bisogni di cittadinanza, provando ad immaginare un modello di intervento sociale sempre più individualizzato, centrato sulla persona. Occorre continuare a promuovere la cultura dei diritti di cittadinanza e della loro esigibilità, quindi fare un'inversione di marcia rispetto invece ad una logica assistenziale, quindi dare continuità alle attività e dai servizi. Individuare quindi i bisogni, un percorso che guardi al monitoraggio dei dati, alla valutazione dei risultati, di ridefinizione di priorità ed obiettivi. Obiettivi strategici diventano dunque non solo la garanzia di continuità e miglioramento quantitativo e qualitativo, e voglio sottolineare l'importanza della continuità dei servizi come punto di riferimento per la cittadinanza, ma anche un miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi essenziali offerti fino ad oggi. E la strutturazione di modalità sempre più partecipate di programmazione, attraverso il coinvolgimento più ampio possibile delle municipalità, delle organizzazioni del terzo settore e della cittadinanza attiva, della famiglia e dei caregiver. E quindi abbiamo costituito negli ultimi anni dei tavoli di concertazione che abbiamo voluto fortemente proprio per creare quei luoghi aperti a cui le varie organizzazioni, comitati, movimenti, le organizzazioni del terzo settore possono iscriversi in maniera aperta, quindi non c'è una chiusura rispetto all'iscrizione ai tavoli e che favoriscono quindi anche un confronto sulle diverse opportunità anche di programmazione e progettazione. Abbiamo voluto per quanto riguarda i tavoli poi allargarlo anche ad altri settori, come dirò rispetto per esempio al tavolo sulla tutela animali ma anche al tavolo che andremo a costituire sui beni confiscati. La costruzione del piano sociale di zona quale strumento di programmazione dell'intero sistema di welfare sarà ripensata in chiave dialogica insieme al rafforzamento di azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi posti in essere, non solo dal comune ma anche da altre istituzioni come quelle della sanità. E anche qui noi tratteremo proprio nella prossima commissione un importante tema, quello dell'osservatorio di cui c'è anche una bozza di delibera che come nell'ultimo consiglio si è evidenziato richiede la partecipazione e la condivisione di tutte le forze di questo consiglio, di questa amministrazione e io direi proprio della cittadinanza e quindi che concorrono a costruire il sistema di welfare cittadino alle condizioni di benessere benessere inteso proprio come salute. Napoli ha dimostrato che esiste la globalizzazione dei diritti prima della globalizzazione dei mercati e che un nuovo modo di fare politica è possibile. Napoli infatti si è dimostrata città inclusiva ed accogliente, si continuerà pertanto in questa direzione con rafforzamento delle politiche sociali di inclusione nei processi socio-economici e socio-culturali delle fasce della popolazione più esposte al rischio di marginalità e di esclusione. Quindi la lotta alla povertà, le diseguaglianze saranno al centro e sono quelle che hanno guidato proprio le azioni e le programmazioni, le ultime anche quelle del PONmetro per esempio del PON inclusione e il rafforzamento dei modelli di governo, dei programmi di contrasto alla povertà. Quindi sono state messe a sistema una serie di misure per il sostegno per esempio al reddito e di accompagnamento alla preuscita della povertà secondo una declinazione di servizi integrati fra loro che prevedono un sistema di servizi ordinari che tengano conto però delle emergenze ma che guardino anche alle prospettive. Quindi un complessivo sistema di interventi complementari alle misure nazionali come il REI per esempio per il quale i servizi si stanno impegnando e quindi a questo proposito io credo che sia importante anche valorizzare l'impegno degli uffici, dei servizi, dei centri di servizi sociali, territoriali, dei servizi centrali ma anche degli altri uffici che hanno e che consentono quotidianamente con scarse risorse economiche di personale però a portare avanti proprio un sistema integrato di servizi e continuano ad intercettare le fasce di popolazione che sono più fragili. Quindi si sta continuando a sostenere anche una serie di progetti finalizzati alla promozione delle politiche di integrazione di cittadinanza per i migranti per garantire il diritto all'asilo e all'accoglienza soprattutto per l'attivazione di reale inserimento per i bambini e i ragazzi su cui abbiamo puntato moltissimo e a cui farò riferimento velocissimo dopo. Sia nel primo arrivo che nelle seconde generazioni appunto dei ragazzi, dei bambini e dei giovani. Questi interventi riguardano anche tutte le popolazioni rom presenti sul territorio cittadino e per l'attuazione richiedono chiaramente sinergie e azioni congiunte che sono certa questa amministrazione, questo consiglio e questa società e quindi la cittadinanza tutta vorranno promuovere in maniera congiunta come si diceva anche prima nell'intervento dell'assessore Borriello. Quindi sono promosse coordinate iniziative che mirano al miglioramento della qualità degli interventi socio-sanitari integrati ma questa sarà un'azione che ci vedrà sempre più attivi nei prossimi tempi e in particolare per le fasce di popolazione più vulnerabili. Per cercare di accelerare anche un po' la relazione che richiederebbe veramente tanto tempo e quindi anche l'approfondimento di moltissimi temi come ILEA, socio-assistenziali e tutti quelli che sono i servizi socio-sanitari e sanitari farò un accenno breve ai diversi settori di intervento. Quindi parlerò adesso del settore infanzia, adolescenza e famiglia che ci ha visto particolarmente attivi anche nel scardinare un sistema che purtroppo era anche caratterizzato da confusione, da mancanza di dati e quindi l'amministrazione comunale ha strutturato in questi ultimi anni un sistema di servizi, di interventi per l'infanzia e l'adolescenza strutturando prassi metodologiche. Questo credo che vada sottolineato perché laddove ci sono delle prassi e quindi laddove c'è continuità, laddove c'è monitoraggio, valutazione, vuol dire che si sta creando un sistema, un sistema che si consolida poi nel tempo e che diventa la risposta a tante forme anche di disagio della popolazione. E quindi abbiamo strutturato e continuiamo a farlo nel tempo, prassi metodologiche e sistemi operativi che possano rispondere sia alla funzione di tutela propria dell'ente locale sia alla funzione di prevenzione del disagio minorile e familiare attraverso l'articolazione di una rete complessa di azioni e di servizi territoriali e domiciliari. Su questo tema in particolare anche del disagio degli adolescenti in particolare ci stiamo interrogando in maniera anche più condivisa e allargata al tavolo della prefettura, con la procura, con la scuola ma anche con le forze dell'ordine perché tutto quello che si vuole che sia efficace deve evidentemente riguardare e coinvolgere tutte le forze, le forze istituzionali ma anche le forze della società. I settori su cui noi abbiamo fortemente lavorato, io ricordo che non molto tempo fa c'è stata ed è ancora in corso una causa penale per cui il Comune si è costituito parte civile ed io personalmente sono stata presente con la conseguenza del rinvio a giudizio di 16 persone proprio nel settore infanzia, adolescenza e famiglia, quindi noi è da lì che siamo partiti, quindi abbiamo risistemato, dato forma attraverso linee guida, attraverso convenzionamenti, attraverso percorsi di trasparenza, affidabilità e correttezza e qualità i servizi rivolti ai minori e alle famiglie. Quindi per minori fuori famiglia intendo quelli che sono affidati alle famiglie di appartenenza, quindi ai nonni, ai familiari ma anche quelli affidati alle comunità di accoglienza. Per questo motivo noi abbiamo voluto appunto delle linee guida, il convenzionamento, monitoraggio, il sistema di qualità, il percorso di formazione e gli operatori pubblici e privati beneficiano di un percorso condiviso proprio di sistema di monitoraggio di qualità. Ma importantissimo è stato anche il coinvolgimento attivo delle altre istituzioni per cui abbiamo una serie di protocolli operativi con la procura minori, con il Tribunale per i minorenni, con il Tribunale ordinario per le tutele, per affrontare tutti i problemi delle famiglie conflittuali. Un altro tema sempre dei minori fuori famiglia molto forte è stato quello che abbiamo dovuto affrontare per i minori non accompagnati, stranieri non accompagnati che abbiamo dovuto chiaramente accogliere in emergenza ma per i quali noi abbiamo strutturato dei servizi ponte molto importanti perché attraverso una buona accoglienza noi costruiamo un percorso e un territorio sicuro e la sicurezza della nostra città non la si garantisce soltanto attraverso il controllo e l'intervento quindi anche delle forze dell'ordine della sicurezza ma anzi al contrario lo si costruisce, lo si rafforza e lo si consolida quando noi creiamo un territorio di conoscenza, di fiducia e non di diffidenza. I servizi socioeducativi sono un altro dei settori che noi abbiamo fortemente potenziato, intanto lo abbiamo declinato in maniera precisa, puntuale anche dando risposte ai diversi territori per cui noi rispondiamo con i nostri servizi socioeducativi in particolare con i centri diurni socioeducativi, sono 35 centri diurni polifunzionali che sono presenti nella nostra città e che rispondono ad esigenze di circa 1300 minori e che sono posizionati non in maniera uguale nei diversi territori ma al contrario in maniera commisurata alle richieste e alle stanze che noi registriamo attraverso i nostri servizi territoriali. I laboratori di educativa territoriale che in questi ultimi anni non hanno avuto mai interruzione perché questa è una cosa che forse a cui ci stiamo abituando. Servizi che erano discontinui negli ultimi anni non si sono mai interrotti, cominciando quindi a rappresentare una garanzia per i nostri ragazzi ma soprattutto per le famiglie che sanno a chi rivolgersi e dove, quindi con quali modalità proprio perché ci sono percorsi di accessibilità trasparenti. Quindi 35 centri diurni polifunzionali per circa 1300 minori, 26 centri di educativa territoriale per oltre 1500 bambini e ragazzi e poi abbiamo quindi voluto consolidarli anche chiedendo alla regione di incardinarli nel nostro sistema di servizi. Quindi anche attraverso la promozione delle attività della cultura ludica in città abbiamo voluto dare anche rilievo a tutta una parte fondamentale che è quella della prevenzione anche perché attraverso i servizi socioeducativi e quindi anche aggregativi, in questo caso anche ludici perché ci rivolgiamo ai bambini, noi possiamo veramente creare un territorio in cui si possa fare prevenzione. Quindi ludoteca cittadina ma una serie di eventi e di esperienze che si vivono in ogni municipalità. L'ultima adesso sta passando l'assessore Palmieri proprio davanti a me, l'ultima che abbiamo condiviso è stata proprio a Piazza Plebiscito nella giornata dell'Epifania in cui i bambini hanno potuto vivere la loro città in maniera centrale, quindi una città per i bambini. Il centro polifunzionale San Francesco a Marichiaro è un altro dei luoghi delle nostre attività. Perché lo voglio menzionare insieme anche al palazzetto Urban? Perché una delle cose che noi abbiamo voluto fortemente in questi anni consolidare è l'utilizzo degli spazi. Quindi non soltanto realizzando delle attività istituzionali al loro interno ma aprendolo alle associazioni del territorio. Questo ci consente di far vivere come proprie anche al territorio, quindi alle associazioni ma anche ai gruppi, ai comitati, luoghi che prima erano luoghi chiusi. Sono invece luoghi aperti ma sempre accessibili attraverso evidenze pubbliche. Quindi si aprono spazi come Marichiaro che tra l'altro è stato anche lo spazio in cui noi abbiamo accolto i minori stranieri non accompagnati. Il centro aggregativo Palazzetto Urban dove abbiamo realizzato proprio di recente un bellissimo campetto di calcio per dare anche maggiori risposte ai tanti bambini e ragazzi del territorio. E poi i servizi di sostegno alla genitorialità. Anche questi servizi di sostegno alla genitorialità sono una proposta innovativa ma che ormai si è consolidata nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni e sono i poli che rispondono alle necessità delle famiglie. Sono diventati ormai un luogo dove anche autonomamente le famiglie in particolare le mamme si aggregano e costruiscono percorsi anche di riscatto. Proprio in questi ultimi tempi ho incontrato le mamme dei quartieri spagnoli, le mamme di Scampia, le mamme della sanità, gruppi di donne che sono mamme e che vogliono qualcosa di più per i loro figli e per tutta la comunità. I poli territoriali che sono stati sperimentali adesso invece si sono consolidati come il resto degli interventi. Continuiamo invece e abbiamo consolidato e quindi dando sempre continuità anche tutte quelle attività che riguardano il contrasto del maltrattamento e l'abuso. Quindi ormai ci sono più interruzioni rispetto a una presa in carico dei bambini e dei ragazzi che purtroppo subiscono ancora numerosi abusi e maltrattamento all'interno delle loro famiglie. Così come abbiamo rafforzato proprio nell'ultimo anno dando anche una nuova sede più ampia, più dignitosa e più adeguata al servizio in area penale, al servizio di mediazione penale minorile. E abbiamo proprio negli ultimi tempi rincontrato il centro giustizia minorile per darci nuovi obiettivi e nuove azioni da intraprendere. Le iniziative progettuali per la valorizzazione e partecipazione degli adolescenti invece ci vedono anche protagonisti di una progettazione che abbiamo portato come nostra sperimentazione al tavolo nazionale della 285 che il ministero ha voluto come sperimentazione nazionale. Anche in questo caso noi siamo partiti da quello che il territorio ci diceva, ci raccontava e ci rappresentava e quindi abbiamo voluto in tutte le municipalità dare voce, forza e anche concretezza a quelle che erano delle iniziative degli adolescenti, delle organizzazioni ma che non riuscivano a trovare un giusto spazio anche all'interno di un contesto più istituzionale. E questa sperimentazione che ripeto è partita proprio quest'anno a livello nazionale parte proprio da qui, da questa città che ha voluto guardare agli adolescenti in maniera specifica perché è una fascia d'età particolarmente fragile. Così come i percorsi di autonomia guidata che sono percorsi anche all'avanguardia perché da un percorso di bisogno all'interno delle comunità i ragazzi, quindi i neomaggiorenni fino a 21 anni possono essere all'uscita dalle comunità o ai percorsi di affido familiare possono essere accompagnati proprio all'autonomia attraverso l'accompagnamento anche ad un'abitazione per un certo periodo di tempo, proprio per dare un'autonomia guidata. In quest'ottica anche il progetto Dote Comune. Dote Comune è nato anche questa come sperimentazione e risponde proprio alle stesse esigenze. Cioè come cercare di rispondere a quei ragazzi ragazzi che, concluso l'obbligo scolastico, non trovano poi delle risposte adeguate nei contesti sociali. Perché poi mortificare laddove c'è invece la possibilità di valorizzare le potenzialità e per questo anche Dote, le potenzialità dei ragazzi che invece vengono accompagnati in un percorso di individuazione anche delle proprie competenze. Anche il progetto Dote Comune ha superato questa fase di sperimentazione. L'impostazione è questa, questo riguarda i minori, quindi l'infanzia, adolescenza e famiglie, ma anche le donne, ma anche gli immigrati. L'impostazione è esattamente quella di creare un percorso graduale che ci consenta di portare, accompagnare, sostenere le persone che vivono un disagio e non uscita da questa situazione di svantaggio. Ancora sono molti i percorsi che abbiamo intrapreso, ripeto, con le altre istituzioni, anche con l'aslo, con cui stiamo rivedendo anche delle misure di accompagnamento, soprattutto nel socio-sanitario, anche per i minori. Per quanto riguarda invece il settore immigrazione, quindi per immigrazione intendo immigrati, rom, ma anche tutto quindi il servizio del contrasto alle nuove povertà ed emergenze sociali. Anche qui abbiamo voluto dare questo tipo di connotazione. Quindi abbiamo una serie di strutture come il centro comunale, della struttura comunale di Santa Maria Verticelli, che è il nostro centro di accoglienza per il sistema SPRAR, che vede un'accoglienza in piccoli numeri, vale a dire che sono accolte non più di 30-40 persone che condividono uno spazio e dove poi possono costruire dei progetti anche individualizzati grazie all'adesione del nostro comune al sistema SPRAR ormai dal 2004. Ma è soltanto negli ultimi anni che noi abbiamo potenziato il numero delle persone accolte nello SPRAR, tanto che proprio ultimamente qui a Napoli si è siglato il protocollo con il ministro Miniti e con le diverse prefetture e diversi comuni in un'ottica proprio di allargamento dell'accoglienza SPRAR a discapito di un'accoglienza straordinaria. Quindi parlo in particolare dei CAS che chiaramente non possono rispondere alle esigenze delle persone che arrivano nel nostro paese e che necessitano di un'accoglienza che li guardi come persone, che li tratti come persone destinatari di percorsi e di progetti mirati. Quindi ancora nell'ambito dell'immigrazione noi aderiamo al progetto fuoritratta. Proprio di recente è stato approvato e quindi abbiamo lavorato insieme anche ad organizzazioni del terzo settore, ma anche alla Regione, proprio per favorire e per potenziare quelli che sono tutti i progetti che riguardano la presa in carico di persone che hanno problemi anche molto particolari come quelli della tratta a sfondo sessuale, ma non soltanto a sfondo sessuale, ma anche per motivi di lavoro, per esempio. Quindi tratta per motivazioni di lavoro. Questo ha richiesto un forte collegamento tra i diversi servizi e tra le diverse attività, tanto che nel progetto che abbiamo anche portato avanti e stiamo portando avanti in sede nazionale, si collega fortemente con tutto il nostro progetto di accoglienza del sistema SPRAR e non solo. Progetto ELICA che è un altro progetto che abbiamo condiviso con un'organizzazione di cui noi siamo capofila e che riguarda proprio l'empowerment del lavoro, integrazione, comunità ed autonomia. Questi sono gli assi. E' un progetto nell'ambito del Fondo FAMI, quindi il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 che è denominato potenziamento del sistema di prima e seconda accoglienza e che ha proprio l'obiettivo di rafforzare maggiormente i percorsi di accompagnamento anche dello SPRAR. Ancora siamo partner e siamo destinatari anche di progetti che hanno un più ampio respiro perché a livello europeo stiamo portando avanti anche quella che è la proposta e l'idea di una città accogliente che guardi all'accoglienza in un modo complesso, cioè che tenga conto delle persone nonostante i grandi numeri. Siamo quindi beneficiari e anche destinatari del progetto europeo Supporting Active Inclusion per le popolazioni migranti disagiate. In che cosa consiste? Consiste nella formazione professionale, quindi nel dare maggiori strumenti professionali e di conoscenza agli operatori che lavorano con i migranti che vengono accolti nel nostro paese. Questo vuol dire che gli strumenti anche professionali sono fondamentali per far sì che la capacità di accoglienza possa essere diversa rispetto a quella che evidentemente è stata proposta negli ultimi tempi e che purtroppo è ancora troppo diffusa. Siamo anche in procinto di approvare la consulta degli immigrati che attraverso il tavolo immigrazione è stata proposta più volte che siamo appunto non solo in procinto di approvare in giunta ma anche di trattare proprio nella commissione ad hoc che tra l'altro è stata richiesta proprio da me prima delle vacanze natalizie. Quindi proprio per confrontarci su quelle che sono tutte le azioni e tutte le funzioni della consulta immigrata. Sul tema dell'immigrazione si sta lavorando anche con il PON Legalità, oltre che un ulteriore fami insieme alla Prefettura, all'ASL e all'Università, quindi il PON Legalità che prevede la ristrutturazione di beni confiscati che poi vengono destinati ad attività non solo di accoglienza residenziale ma anche di attività di integrazione nei confronti delle popolazioni migranti. E non parlo soltanto di popolazioni che arrivano adesso attraverso gli sbarchi, attraverso i grandi flussi di questi ultimi anni, ma anche di tutte quelle comunità che vivono da tempo nel nostro Paese e che hanno necessità, voglia, desiderio di partecipare in prima persona al cambiamento che la nostra città sta vivendo anche in questo settore. Ancora, abbiamo portato avanti in questi ultimi anni molti interventi che riguardano le comunità ROM presenti sul nostro territorio cittadino. Abbiamo già da qualche anno ormai dato continuità al trasporto scolastico dei bambini. Questo è stato uno strumento forte di inclusione scolastica, perché ha visto i bambini anche dei campi più distanti e dei campi abusivi iniziare a frequentare la scuola. Quindi abbiamo voluto dare continuità anche a questo. così come l'inclusione sociale scolastica delle popolazioni ROM e quindi dei bambini ROM e nelle strutture di accoglienza comunali che ospitano i nuclei familiari ROM, che sono i villaggi di accoglienza della circonvallazione esterna, il centro dell'Edda a Soccavo, il centro di accoglienza in via del riposo, abbiamo voluto dare anche maggiore forza attraverso un progetto che si chiama ECO, e cioè esperienza condominale, nell'intento di favorire quelle che sono anche la valorizzazione delle capacità delle persone di uscire sostenuti, ma facendosi forza delle proprie potenzialità per arrivare ad una emancipazione reale e concreta dalla loro condizione di disagio. Chiaramente fornirò al Consiglio le varie schede perché sono ricche di percorsi, dei progetti articolati e anche complessi che noi stiamo mettendo insieme, mantenendo però un obiettivo molto forte e preciso, cioè quello della continuità, quella dell'emancipazione, quella dei percorsi graduali, perché senza un percorso graduale non è possibile arrivare a dei risultati che poi siano consolidati e solidi nel tempo. Abbiamo anche approvato il piano di azione locale in cui poi si declinano le varie azioni e i vari punti fondamentali, quindi le direttrici di base della strategia nazionale che sono appunto l'istruzione, l'intercultura, il lavoro, la sanità e l'abitare. All'interno del piano di azione locale c'è un lavoro che noi adesso stiamo avviando anche con più forza che è già avviato da tempo con le altre istituzioni e quindi con la scuola, con l'ASL, con la prefettura, con la procura, ma che adesso vedrà il coinvolgimento anche maggiormente di realtà del terzo settore ma anche delle forze politiche, quindi un lavoro che si può portare con forza all'interno della commissione welfare, è il lavoro del tavolo di rete dove poi noi andremo anche ad affrontare quelle che sono le programmazioni e le progettazioni relative a delle risorse che abbiamo recuperato provenienti dalla città metropolitana e rivolte proprio a Roma e invece alle risorse derivanti dalla programmazione del POMmetro. Il potenziamento SPRAR quindi riguarda una delle attività ancora che stiamo implementando e con il partenariato del progetto PON Legalità si darà forma complessivamente ad una serie di interventi che vedranno quindi protagonisti, come dicevo prima, anche le comunità già che vivono nella nostra città. Tutte queste azioni hanno visto il coordinamento e il lavoro veramente instancabile degli uffici che hanno lavorato contemporaneamente all'ordinario e alle situazioni di emergenza che si presentavano ma anche di programmazione. Quindi su questo vorrei assolutamente ringraziare gli uffici. Questo settore devo dire che richiederebbe davvero dei tempi ancora lunghi rispetto per esempio a tutto quello che si riferisce all'aspetto socio-sanitario degli adulti e quindi alle dipendenze, alla salute mentale, al disagio proprio adulto. Non ci sarà tempo per motivi proprio di sintesi di affrontare tutti questi argomenti ma ci tengo però a sottolineare anche il grande lavoro che è stato fatto nei diversi tavoli e in questo caso parlo proprio del tavolo povertà, nei diversi tavoli di coniugare insieme tutti i fondi diversi fra loro, non guardando a delle singole progettazioni ma guardando invece a una strategia d'insieme che guardi alle persone e alla gradualità degli interventi che a loro sono destinati. Il Pommetro è stata una grande risorsa per l'amministrazione ma lo è stato anche perché si è voluto guardare in questa prospettiva e cioè si è voluto e si è saputo utilizzare delle risorse in maniera assolutamente funzionale a portare avanti questi percorsi appunto di emancipazione. Per quanto riguarda l'emarginazione adulta si continuano a portare avanti i servizi che si sono avviati e consolidati in questi anni e cioè la centrale operativa sociale che è un servizio fondamentale le unità di strada che noi abbiamo voluto proprio negli ultimi tempi rafforzare perché noi abbiamo tre unità di strada che raggiungono i senza dimora per strada e che rappresentano un gancio fondamentale perché loro possano conoscere delle persone a cui rivolgersi e che in maniera costante coltivano la loro capacità anche di cercare un riferimento in persone che si occupano di loro inizialmente per motivi primari e poi pian piano invece per essere coinvolti per esempio nei servizi di accoglienza diurna oltre che di attività e laboratori che in questa accoglienza diurna noi realizziamo. Quindi centrale operativa, unità mobili che sono state triplicate perché oggi ne abbiamo tre, accoglienza bassa soglia che noi abbiamo praticamente raddoppiato in termini di posti ma che abbiamo voluto anche arricchire in termini qualitativi tanto che proprio in una delle strutture che accoglie senza dimora bassa soglia abbiamo voluto anche riservare uno spazio per gli animali che si accompagnano spesso ai senza dimora quindi proprio cercando di guardare quelle che sono le richieste, le esigenze e le necessità di queste persone che a volte trovano nel loro animale l'unico legame fondamentale e quindi l'unico legame su cui i nostri servizi poi possono lavorare. Il CPA che è il nostro centro di prima accoglienza ex dormitorio pubblico è in fase, è destinatario anch'esso di una parte delle risorse del Pommetro ed è destinatario di ulteriori cambiamenti vale a dire che è in fase di realizzazione una comunità di transito e cioè una comunità che dopo la bassa soglia possa accompagnare le persone in percorsi più mirati fino ad arrivare anche a un'accoglienza invece guidata in autonomia o addirittura in mini appartamenti cioè quindi in appartamenti in cui loro possono sperimentare di nuovo un'autonomia piena. L'anagrafe virtuale a cui ha fatto riferimento l'assessore Sardu che ci ha visto lavorare a quattro mani per riuscire a dare delle risposte anche in termini di accesso ai diritti significa che attraverso l'anagrafe virtuale più che un controllo c'è invece una presenza dell'amministrazione e anche un sostegno rispetto per esempio all'accesso ai servizi, servizi sanitari. Ancora i servizi si stanno impegnando nella risposta alle famiglie per quanto riguarda il reddito di inclusione. Anche questo ha richiesto un grandissimo lavoro ai servizi che quotidianamente rispondono alle necessità delle diverse persone che vengono disagi economici e sociali. Soluzioni abitative protette quindi per i senza dimora ma anche nuove sperimentazioni come l'affido familiare. Stiamo infatti portando avanti delle sperimentazioni in questo senso e cioè famiglie che si rendono disponibili anche ad accogliere temporaneamente di senza dimora. Questa è una cosa che forse è più praticabile anche con le donne perché noi stiamo riscontrando una disponibilità per esempio ad accogliere giovani donne in famiglie. Ancora altre sono le iniziative per i senza dimora come anche l'utilizzo di strutture ma anche di beni confiscati come quella di Via Tiberio che vede proprio la realizzazione anche attraverso il coinvolgimento di fondazioni e di enti privati di un gruppo appartamento che è volto all'accoglienza di un piccolo gruppo che per un periodo di tempo limitato viene accolto e accompagnato in un percorso di autonomia e che sta dando grandissime soddisfazioni perché in tempi abbastanza brevi riesce a dare risposte adeguate quindi quello che noi esattamente speravamo. In conclusione si è dato rilievo alla strutturazione di un sistema articolato che vede nella continuità e nel monitoraggio elementi fondamentali attraverso l'analisi delle esigenze dei territori e quindi abbiamo dato forza e importanza alla riorganizzazione dei servizi e degli uffici perché soltanto attraverso la riorganizzazione degli uffici e dei servizi noi abbiamo potuto realizzare tutto quello che siamo riusciti a realizzare con scarse risorse economiche e anche con scarse risorse umane. Si sono volute quindi le linee guida, i convenzionamenti, gli avvisi pubblici per garantire trasparenza e qualità e il superamento di una logica assistenziale, percorsi di uscita e di inclusione e di autonomia utilizzo di tutte le opportunità in termini di risorse economiche e non solo potenziamento delle reti e adesioni a tavoli nazionali ed europei utilizzo di tutte le risorse e di diversi fondi in un'ottica integrata e complementare per la realizzazione di un sistema complesso e coordinato secondo una visione strategica di insieme e quindi il PON inclusione, il PON metro, il PON legalità, i fondi della città metropolitana i fondi regionali, quelli comunali, quelli del fondo nazionale sono veramente stati integrati, hanno rappresentato come le risorse di un'unica grande strategia che ha visto quindi lavorare l'amministrazione in tutte le sue diramazioni in modo molto impegnativo lo voglio, l'ho già sottolineato perché in realtà è veramente complicato per i servizi affrontare una portata così forte e impegnativa di lavoro quindi rafforzamento delle reti istituzionali e territoriali perché un settore così delicato ed importante come quello del sociale ci vede tutti, ciascuno per le proprie funzioni, ruoli e competenze chiamato a concorrere ad ogni importante cambiamento ed è questo quello che noi abbiamo riscontrato nelle altre istituzioni ma anche nei comitati e nei movimenti che partecipano ai tavoli di confronto sulle diverse tematiche. Con questo concludo la parte delle politiche sociali e dell'immigrazione e brevemente faccio un riferimento invece a quello che è il settore della sanità e della tutela degli animali. Abbiamo incontrato e ho detto anche prima che stiamo per portare all'attenzione della Commissione un lavoro che stiamo portando avanti ormai da diversi mesi con la Commissione stessa ma anche con molti comitati e con molti gruppi di professionisti riguardo proprio ad un'attenzione verso la tutela della salute dei cittadini quindi un'attenzione che ci spinge anche a sottolineare a sostenere, a portare avanti una serie di istanze nei confronti anche di altre istituzioni che sono responsabili evidentemente della salute dei cittadini e quindi del sistema anche sanitario più ampio. Un lavoro che anche riguarda la prevenzione e in questo senso insieme allo sport quindi insieme all'assessorato allo sport insieme all'assessorato alla scuola abbiamo promosso e continueremo a farlo con sempre maggiore forza una serie di attività di promozione sensibilizzazione e diffusione anche di pratiche relative agli stili di vita ai comportamenti che possono veramente prevenire e in qualche caso anche curare le malattie o comunque i rischi di malattie dei cittadini per la prima volta la tutela degli animali invece è vista in un'ottica di welfare la tutela degli animali in questo caso è proprio incardinata nel sistema di welfare perché la vita degli animali che condividono anche gli spazi familiari e non solo costituisce una ricchezza anche per le persone che vivono dei disagi particolari non penso soltanto senza dimori a cui ho fatto riferimento prima penso ai bambini con forme di disagio penso ai bambini autistici alle persone con disabilità agli anziani il riuscire a guardare agli animali come una risorsa per le persone evidentemente arricchisce anche la nostra visione più ampia e anche più articolata del welfare e in quest'ottica c'è anche la Delegal e beni confiscati per i quali è stato fatto anche negli anni precedenti un lavoro rispetto all'utilizzo e quindi all'impiego di questi beni nel settore sociale quindi in servizi che rappresentano una grande risorsa per il territorio ma in questi ultimissimi mesi noi abbiamo lavorato tanto ad un monitoraggio ad una ricognizione ad una conoscenza più diretta anche di quelli che sono i servizi e le attività che vengono svolte all'interno dei beni confiscati siamo riusciti a fare non solo una ricognizione ma proprio un monitoraggio vero e proprio di tutte le strutture che sono state affidate e anche la valorizzazione quindi attraverso una comunicazione più consona anche all'utilizzo che i beni confiscati devono avere e allora il nostro obiettivo con cui ci siamo posti con l'ufficio e a cui stiamo lavorando ormai negli ultimi mesi è quello di dare anche una visibilità maggiore per restituire al territorio il valore dei beni confiscati e quindi anche tutta l'importanza che è un bene che è stato sottratto dalla Camorra al territorio invece viene restituito restituito però offrendo opportunità a quel territorio stesso e quindi è un lavoro che ci vede coinvolti che ci vede molto attivi in questi ultimi mesi e che ci ha posto anche degli ulteriori obiettivi che noi andremo sicuramente a condividere è in commissione quindi con il Consiglio ma anche in un tavolo di confronto con gli stessi attuali beneficiari di questi beni quindi affidatari di questi beni ma anche con tutti coloro che vogliono partecipare alla costruzione di un pensiero così importante che riguarda evidentemente l'utilizzo dei beni dei beni confiscati invierò chiaramente come ho già detto prima tutte le schede perché ci sono tantissime altre cose da poter presentare che in questi anni ci hanno visto molto attivi e silenziosamente impegnati quotidianamente nel portare avanti delle risposte vere, efficaci ed autentiche ai nostri cittadini grazie